Buonasera, mezzanotte, 38 minuti, ultima edizione del nostro telegiornale, cominciamo subito con la politica, inizia domani al Senato, l'iter del governo Conte per la fiducia si vota già domani pomeriggio e poi dopo domani il governo si presenterà per chiedere la fiducia alla Camera dove ha una maggioranza molto più ampia, però oggi è stata una giornata scandita anche da polemiche attorno alla flat tax e scaturite dalle parole di Salvini sui migranti e il rapporto con la Tunisia, parole che hanno fatto sì che l'ambasciatore italiano a Tunisi fosse richiamato, vediamo. In tarda sera del Ministro dell'Interno durante una manifestazione elettorale a Fiumicino dove si voterà per le comunali, torna sulla questione dei migranti e sulle tensioni con la Tunisia provocate dalle sue precedenti dichiarazioni. La Tunisia spesso esporta Galeotti, frase che aveva portato alla convocazione dell'ambasciatore italiano per chiarimenti. Qualcuno in Tunisia spiega ora Salvini si è offeso, sbagliando, perché io ho detto solo che arrivano qui anche persone non per bene. Sul caso clandestini Salvini comunque tiene aperto anche il fronte con l'Europa e conferma. Quello degli sbarchi e dell'accoglienza non può essere un problema solo italiano, o l'Europa ci aiuta oppure dovremo scegliere altre vie. Con Orban cambieremo le regole dell'Unione. Parole che sicuramente peseranno nella riunione di domani al vertice dei Ministri dell'Interno europei sull'immigrazione a Lussemburgo, dove Salvini non ci sarà perché è impegnato in Senato sul voto di fiducia. Sui tempi di varo della flat tax, gli economisti della Lega si dividono. Bagnai, uno degli uomini in corsa al ruolo di sottosegretario dell'economia, dice, prima per le imprese e poi nel 2020 per le famiglie. Non è vero, replica Armando Siri, per imprese e famiglie si parte nel 2019. Il leader del PD Martina replica. Basta prese in giro, sulle imprese abbiamo già fatto noi. La flat tax si farà, chiude Salvini, ma prima arriverà la pace fiscale con la chiusura delle liti tra italiani ed Equitalia. Da domani inizierà l'iter parlamentare per il voto di fiducia sul governo. Il Presidente del Consiglio Conte parlerà prima al Senato, poi andrà a Montecitorio, ma solo per depositare il suo intervento. Il voto di Palazzo Madama ci sarà già domani, mentre quello alla Camera arriverà mercoledì. I numeri mettono a riparo la maggioranza, anche al Senato, dove può contare almeno su 171 sì. E sulla stenzione di Fratelli d'Italia, molto più ampio il margine alla Camera dei Deputati. Oggi a Rosarno e in Calabria si è svolta una pacifica manifestazione di protesta per l'uccisione di Sumalia Sacco. Decine di persone sono scese in strada per chiedere giustizia dopo l'omicidio eseguito con precisione con un colpo di fucile del maliano di 29 anni, migrato regolare, rappresentante sindacale. Sacco è stato ucciso sabato scorso mentre stava prelevando delle lamiere in una fabbrica abbandonata per rinforzare la baracca dove abitava. Per noi non esiste la pacchia, hanno detto alcuni rappresentanti sindacali. Siamo lavoratori italiani e migranti, famiglia senza né presente né futuro. Nella tarda serata di oggi dell'omicidio ha parlato anche il ministro degli interni Salvini che ha ribadito che l'assassinio è grave e che l'immigrazione è senza controllo. Le tendopoli e i ghetti portano inevitabilmente allo scontro sociale. Il Sunday Times ha pubblicato dei documenti riservati che delineano degli scenari abbastanza inquietanti in caso di una hard Brexit, cioè una Brexit senza un accordo tra Regno Unito e Unione Europea. Questi negoziati sono in corso ma sono tuttora in fase di stallo e se non venisse trovato un punto di incontro Londra potrebbe lasciare l'Unione il prossimo 29 marzo senza un accordo. In questo caso gli scenari sono inquietanti. Fin dal 30 marzo del prossimo anno il porto di Dover, causa ripristino dei controlli doganali, sarebbe al collasso lasciando il paese nei giorni successivi a corto di cibo, medicina e carburante. Scenari probabili secondo chi spera ancora in un nuovo referendum che annulli la Brexit. Impossibile invece per i separatisti più convinti. Preoccupati più che altro per le concessioni che Theresa May potrebbe fare a Bruxelles in cambio del divorzio. Adesso parliamo di calcio, dell'ultima amichevole della nazionale che ha pareggiato uno a uno con l'Olanda sotto la guida nuova di Mancini. Vediamo com'è andata. Una rete subita a due minuti dal fischio finale lascia l'amaro in bocca agli azzurri, autori di una buona prestazione complessiva. Assaporavano già i punti utili ad un ranking che ci vede ventesimi proprio dietro all'Olanda. Gli uomini di Mancini che in apertura vanno in gol con Belotti, situazione viziata da fuorigioco, si svegliano dopo la mezz'ora mettendo in difficoltà la difesa arancione. L'Italia sfiora il vantaggio con Verdi, lanciato in profondità da Giorginio, ma la chance migliore capita sulla testa di Criscito, sul calcio d'angolo di Buonaventura la deviazione sulla linea di porte di Former. Tante emozioni nella ripresa, l'Italia in vantaggio con Zaza, entrato a pochi minuti prima al posto di Belotti. Decisivo il rimpallo di Van Dijk sulla scivolata del giocatore del Valencia pescato in aree da chiesa. Ma subito dopo il match cambia di nuovo perché l'Italia resta in dieci. La difesa si fa sorprendere, impreparata e Criscito è costretto al fallo da rosso su Babel. Nel finale il giovane olandese a che è su cross di Berghaus trova di testa il suo primo gol in nazionale. Sempre lui, a tempo sgaduto, sbaglia il tocco del possibile 2-1. Sarebbe stata una punizione eccessiva. Mezzanotte 44, noi ci fermiamo qui. L'informazione, come sempre, torna domani mattina alle 7. Arrivederci e buonanotte.